C.D.A. Entità A. Maestro Andrea attraverso Corrado Piancastelli. Domanda Prima dicevi che lo spirito avverte la psiche come un corpo estraneo, l'avverte come un freno, come una palla al piede. Risposta naturalmente sì. Domanda è in grado di strumentalizzarla? Cioè fino a che punto la subisce? Risposta diciamo sì e no. Bisogna tener presente che è possibile non subire o limitare l'influenza della psiche quando lo spirito ha una buona evoluzione, il che significa anche una buona determinazione del programma. Quindi con la forza che è la conseguenza della determinazione della precisione, egli può opporsi ad una psiche e ad un corpo invadenti. In caso contrario lo spirito si lascia trascinare dal vortice di esperienze non necessarie o da deviazioni, proprio perché manca di determinazione il che denota una mancanza di sviluppo evolutivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.